Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube, oggi parliamo di Super Sub come vi ho detto anche durante il video per i consigli della Weekend League per me i Super Sub sono una componente fondamentale del gioco, della partita quindi oggi ci andiamo a vedere quelli che sono secondo me i migliori Super Sub economici e alcuni magari che costano un pelino in più per quanto riguarda la fase offensiva ho desidero di dividere il video in due in maniera tale che in questo guardiamo quelli del reparto avanzato e poi in quello che uscirà domani guardiamo invece i migliori Super Sub a livello difensivo e nulla, diciamo che andiamo subito all'azione dove ci attende il primo giocatore eccolo qui è proprio il buon Marcus Rashford nella sua versione base una carta che fino a qualche settimana fa costava lira del signore adesso è droppata, ovviamente ho preso anche tante carte speciali ma rimane molto 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 valido anche in questa carta qui parliamo di un giocatore di 1,86 m alto normale, destro, con 5 di skill e 4 di piede debole questo già è un ottimo punto a favore per Rashford questo significa che potete metterlo all'interno della partita per fare sia l'esterno, sia la punta, sia la seconda punta, sia il CEC visto che comunque ha 81 di corto e il CEC solitamente non fa questi lanci lunghissimi è molto molto veloce la finalizzazione 83 alle volte un pochino si sente ma comunque non è male ha 82 di freddezza che per un Super Sub che entra per gestire momenti della partita diciamo delicati è un ottimo parametro in più con 5 di skill avete la possibilità di poter fare gli elastici, il reverse elastico avete la possibilità di sfruttare il fatto che è un giocatore di 1,86 m che quindi ha dei movimenti molto ampi nel fare il doppio passo nel fare il bridge, prende bene campo quindi il buon Marcus secondo me è una carta molto molto valida per quello che vale e secondo me merita di stare in panchina qualora voi non lo utilizzate per spaccare le partite secondo giocatorino che ho preparato per voi è questo Zaha che magari ve lo siete ritrovato pick comunque non costa manco tantissimo ed è un giocatore di 1,80 m a piede destro anche qui abbiamo il 5 di skill che mi piace tanto e il 3 di piede debole che magari è un pochino al limite borderline ma per quello che io andrei a far fare a questo Zaha non è neanche questo eccessivo problema perché questo Zaha io ce lo vedo bene appiottare sulla fascia da esterno o da COS o da COD meno da punta perché non mi spaventa tanto il 3 di piede debole ma con l'80 di finalizzazione associato a un 84 di potenza tiro anche lui per essere un super sub ha un ottimo parametro per quanto riguarda la freddezza e questo qua ve lo portate a casa con un 70-80.000 se non erro e insomma per percorrere anche lui e sfruttare magari la stamina abbassata dei terzini avversari e dei giocatori avversari per me può tranquillamente andare a dire la sua altro giocatorino molto molto interessante è Stovan Bergen che voi mi avete detto Riberovski perché non me l'hai messo nel video dei migliori esterni non te l'ho messo nel video dei migliori esterni perché lo volevo mettere nel video dei super sub di fatti quelli che avevo piazzato nell'altro video per me erano dei giocatori che potevano fare i titolari questo qua da titolare ovviamente non ce lo vedo A perché insomma ha problemi di link B perché c'è 3 di skill e sapete che per me un esterno perché questo qua vi entra in campo a fare l'esterno o al massimo la seconda punta abbiamo bisogno di almeno di 4 di skill quest'anno però parliamo comunque di un giocatore di un metro e settanta con rendimento alto basso e vi dicevo 3 di skill ma 5 di piede debole grosso 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 punto a favore questo qua in game è una saetta corre come che ha anche una buona finalizzazione una buona potenza tiro passaggi un pochino ambigui se vi devo dire la verità ma non è tanto questo quello che mi spaventa ma mi spaventa quel 75 di freddezza perché come vi dicevo i super sub entrano in momenti delicati in cui sta freddezza si deve in qualche modo far sentire e non vorrei che magari capita proprio sui piedi di Van Bergen la palla che lui ha deciso di buttare fuori e che quel 75 di freddezza gli fa gestire male tuttavia lo trovo molto molto valido è una carta obiettivo per cui gratuita sbloccarvelo non vi costa niente mettervelo in panchina per spaccare le partite non vi costa ancora meno per cui questo Van Bergen anche è molto molto valido da super sub in my honest opinion prossima carta è una carta che ormai non costa praticamente nulla è sto Ousmane Dembélé un metro e 78 alto normale sinistro 5 e 5 quindi parliamo di un 5 e 5 che insomma sono sempre gold per quanto riguarda queste carte veloce, molto veloce peccato per la finalizzazione che è 75 discreti passaggi freddezza diciamo al limite però anche qui per quello che deve fare sta carta ossia secondo me entrare in fascia può tranquillamente andare a dire la sua Dembélé che onestamente ho visto anche recentemente utilizzare anche a pro in weekend league come super sub proprio il base è così perché tanto è una carta che bene o male tutti quanti si possono procurare accessibile a tutti il suo lo fa e quindi devo dire che questo Dembélé può tranquillamente essere utilizzato da super sub e soprattutto in termini di rapporto qualità prezzo è veramente tanta roba altra cartina interessante è questo promise qui iniziamo un attimino a salire di prezzo per quanto riguarda le fasce di super sub però l'ho voluto mettere perché tanti di voi l'hanno trovato dentro la party bag dei foot freeze quel pacco speciale che droppava un po' di roba e questo qua devo dire che è tanta roba perché parliamo di un giocatore di 1,74m con un body type simpatico destro 5 di skill e 4 di piede debole quindi abbina anche un'ottima velocità io lo potrei andare a utilizzare sia per quanto riguarda zone esterne quindi in fascia sia da c o c perché comunque ha dei discreti passaggi e anche da punta o da seconda punta infatti è molto agile peccato l'equilibrio ottima reattività ottimo controllo palla e dribbling ha anche un buon parametro di feridezza inoltre se l'avete trovato alla party bag che questo magari potrebbe anche upparsi e devo dire che sto promise soprattutto dopo che è stato scarcerato poi non ho seguito chissà che gli è successo poverino può tranquillamente trovare posto nelle vostre squadre da super sub se l'avete preso non scambiabile visto che comunque da comprare costa sui 150 andiamo su un budget altino per un super sub che non è proprio alla portata di tutti adesso ci attendono due giocatori che abbiamo già visto ossia il primo è Gerard de Olofeo quindi senza che stiamo qui a ripassarlo più di tanto è ora una carta obiettivo mi sa che ormai è scaduta quindi se non ve la siete portata a casa rip però questo qua da super sub vi spacca le partite in una maniera incredibile raga io lo sto utilizzando è stato utilizzato anche nei tornei competitivi da super sub è veramente qualcosa di incredibile perché è un anetto di 1.77 con un body type perfetto che va via come una scheggia ha anche un discreto passaggio corto ha la buona freddezza per fare il super sub ha anche un buon tiro devo dire che finalizza in maniera molto discreta quindi devo dire che sto De Olofeo si colloca in cima proprio alle mie preferenze di super sub forse è un pelo indietro a Rashford però io a Rashford lo uso titolare quindi De Olofeo è il primo super sub che piazzo a partita in corso e a far compagnia a De Olofeo è un'altra faccia nota che vi ho messo anche nel video degli esterni questo Alessandro Rini che qualora non utilizzate da titolare vi siete sbloccati per me da super sub mi ributta indietro alle vibes di FIFA 18 ed è tanta roba 4-4 l'abbiamo già visto con un body type perfetto per fare l'esterno sfruttare la sua velocità questo c'è anche una gran potenza tiro con una finalizzazione un po' così però comunque molto valida freddezza 85 per un super sub è tantissimo molto molto agile questo qua può essere utilizzato tranquillamente da esterno da super sub può essere utilizzato anche da punta più seconda punta che prima punta e devo dire che il suo lo fa anche anche quest'anno e nulla raga per quanto riguarda sto video dei super sub offensivi diciamo accessibili più o meno a tutti è quanto mi raccomando lasciate un like un commento fatemi sapere se magari voi utilizzate qualche altro giocatore che a me è sfuggito oppure che insomma io non non utilizzo vi raccomando anche un like e l'iscrizione al canale che stiamo andando benissimo per tutte quante le info sulle live giornaliere trovate in descrizione e a me non resta altro che salutarvi ragazzi ciao